Ehi! Leni con noi! È tempo di Tartals! Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffaello, tutti insieme per combattere contro il malvagio Shredder! A bordo dei loro potentissimi veicoli, i Tartals sono pronti per la sfida! Tartarughe alla riscossa! Entra anche tu nella squadra del divertimento in azione! Ninja Tartals, veicoli e personaggi, solo da... Giochi preziosi! Psst! Ehi! Vieni con noi! È tempo di Tartals! Ninja Tartals Extreme, Leonardo sul monopattino, Michelangelo con lo skate, Donatello in mountain bike, Raffaello con i roller, Ninja Tartals, solo da... Giochi preziosi!